Ciao dal vostro Fanny Doggo! Mettetevi comodi e godetevi questa nuova carrellata di video divertenti! E non dimenticate di iscrivervi al canale! Pronti? Si parte! Sarei curioso di sapere da quanto tempo va avanti così. Quando senti degli strani rumori provenire dalla cucina. Ogni volta che cerchi di mangiare qualcosa di nascosto. Un cane che ha imparato a lavare i propri giocattoli. Sembra davvero molto rilassante. Quelle volte in cui il tuo cane attiva la retromarcia. Quando dal veterinario cerchi in tutti i modi di distrarlo. Chissà di cosa staranno discutendo questi due. Forse lui lo sa. Quando lei è palesemente arrabbiata con te e tu provi a far finta di non saperne nulla. Questo husky sta semplicemente litigando con la sua zampa. Quando sei in ritardo per la lezione alla scuola canina. Quando vuole farti capire che è ora della pappa. No! guardate che strategia ha imparato questo cagnolino per rubare i giochi al suo amico quando hai il tuo posto preferito per mangiare avete mai visto un pappagallo ed un cane giocare insieme questo cane adora ricevere foglie di insalata come snack quando ti vietano di avvicinarti alle salsicce e così devi accontentarti chissà chi sarà stato ho qualche sospetto quando vorrebbe essere l'unico a prendersi tutte le coccole oh my goodness oh somebody's jealous oh 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 quando ti regalano un nuovo cuscino e non vuoi più separartene quando sa che è quasi pronta la sua pappa e anche per oggi è tutto amici grazie per essere stati con noi in questo video e se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale a presto ciao e